Prima riunione oggi del Consiglio provinciale eletto il 18 dicembre. Un unico punto all'ordine del giorno, la convalida degli eletti. Ha impegnato il Consiglio per una manciata di minuti essenziali però a formalizzare l'esito del voto e le condizioni di elegibilità e compatibilità di ognuno dei 16 nuovi consiglieri provinciali. Nuovi ma non troppo, visto che su 16 eletti ci sono 10 conferme e 6 volti nuovi. Ad accoglierli il presidente della provincia Francesco Rucco affiancato dai vertici dell'ente. La rappresentanza territoriale è ampia e copre l'intero territorio provinciale. Da Noventa a Schio, da Marostica a Valdagno, 12 sono i sindaci, due vicesindaci e due consiglieri comunali. La prossima seduta del Consiglio sarà a fine gennaio. Nel frattempo il presidente Rucco assegnerà ai consiglieri le deleghe di cui ognuno sarà chiamato ad occuparsi. Deleghe che richiamano le competenze della provincia e che vanno dalla viabilità provinciale all'edilizia scolastica superiore, passando per la pianificazione territoriale, il trasporto pubblico, la valorizzazione dell'ambiente, oltre a protezione civile e polizia provinciale.